Oggi presso la sede di Ance e Palermo, le parti sociali del sistema bilaterale della Cassedile, Ance e sindacati hanno convocato un incontro per affrontare il tema delicato e urgentissimo, grave, del mancato sblocco dei crediti che porta in sofferenza l'intero sistema. I dati della Cassedile, di cui oggi abbiamo snocciolato numeri e percentuali, denotano e rappresentano a tutti noi che abbiamo la responsabilità di tutelare l'intero sistema, imprese e lavoratori, ha portato sul tavolo la grande criticità del momento, che noi siamo tenuti responsabilmente ad affrontare per dare risposta all'intero sistema. Da Palermo vuole partire un allarme sul settore, su quello che il blocco dei crediti ha creato rispetto alle retribuzioni dei lavoratori e alla solvibilità da parte delle aziende. Pertanto è stato stabilito che chiederemo il coinvolgimento delle nostre segreterie nazionali e del sistema degli enti bilaterali nazionali, affinché si possa aprire un ragionamento anche sulle regole da applicare per il recupero dei crediti. Grazie.